Ciao, buongiorno. Siamo l'Artigliano in Fiera. Oggi prepariamo la tortilla di patata spagnola. Iniziamo con gli ingredienti. Un chilo di patate, tre cipolle e otto uova. E' semplice, anche un po' di sale e dopo, come sempre, l'olio di oliva è stravergine. Iniziamo. Se ne posso una bella quantità di olio per fare il soffritto. Andiamo usando le patate. Abbiamo un po' di tempo per farlo tutto. Intanto lo possiamo fare, aprire le uova per batturla. Abbiamo otto uova. Le facciamo di dieci, finalmente. Ok, la sale, un po' per uova. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok, quello lo teniamo quasi a posto. Adesso aggiungiamo la cipolla. dobbiamo aspettare a farlo questo dieci minuti, minimo. Continuiamo facendo fuori tutto l'olio per separare la patata della cipolla. facciamo fuori bene l'olio. Usiamo la patata con la uova tutto insieme. Mescoliamo tutto bene. Adesso quando vediamo che è un po' calda, non troppo temperatura, se non si brucia, tanto la tortilla troppo grossa. Mottiamo tutta la pentola. Temperature a 150-160 gradi. Adesso aggiungiamo un po' di sale in più. E moscoliamo. Mescoliamo tutto senza fermarsi, se non si ataca. Adesso quando vediamo che è al punto che la uova si fa per sopra, vediamo che è prende il hialo. Aggiungiamo un po' il fuoco, fino a 100 gradi più o meno. Restiamo due o tre minuti così. Tanto a casa, se a qualcuno le piace tanto il peperoni, come il salami, tutto lo che vuole, se le può aggiungere. Siempre queda più saporetta. Puoi farlo tutto come vuole. ed è arrivato al momento importante di girare la... Siamo al punto. Un po piccolo. Adesso già due o tre minuti così, è tutto al gusto. Facciamo un giro più per controllare. Ecco. Adesso già l'abbiamo finita. Impiateare. Grazie. Ecco qua. Questa è la preparazione della tortilla di patata spagnola. Buon appetito, del artigianato in Fiera.